Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video So già che mi pentirò a fare sto video Da come avete notato mi muovo in uno stile più realistico E più veloce E voi vi starete dicendo William, ma perchè ti pentirò di fare sto video? Ecco a voi la risposta E secondo voi l'animazione durerà di più o meno? E la risposta non ve la so manco dare io E allora perchè stai facendo questa animazione a 30 fps? Beh per lo speciale Di che? Ma secondo te? Per lo speciale del mio canale aperto da un anno Quale canale? Ora potrò finalmente io comandare tutto Non così in fretta Ma che vuoi da me? Io non ti ho fatto niente William, no f- Dovrò prendere un nuovo aiutante Ok ragazzi ci vediamo in un prossimo video Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti